benvenuti in fiabe a domicilio se vuoi fare della tua ricorrenza un momento magico o semplicemente rendere magica una festività perché non farlo con una fiaba per esempio fiaba del matrimonio se vuoi una fiaba su misura prenota la ora un bacio da fatina daniela come il sole allegra e spontanea come acqua di ruscello la consiglierà per eccellenza della regina infine la fatina violetta vestita di viola era sensibile e delicata proprio come una violetta dolce come